È accaduto nei giorni scorsi, ma la notizia è trapelata soltanto ora. Matteo Messina Denaro, il super boss della mafia, ha incontrato nel carcere Le Costarelle di Preturo, dove è detenuto dopo l'arresto in Sicilia, la figlia Lorenza Lagna. È la prima volta che i due si incontrano. Lorenza è il frutto della relazione che Matteo Messina Denaro ha avuto in precedenza con Francesca Lagna, sorella del commercialista di fiducia dell'ex patron della ditta di viaggi Valtur. Lorenza ha sempre cercato di stare lontana dal padre e dal suo mondo. Il cognome che porta la testimonia, del resto il padre, era già un super latitante. Un faccia a faccia che due però ora hanno avuto in carcere, divisi solo da un vetro blindato. Di lei si sa che ha 27 anni, vive a Castelvetrano con il compagno e un figlio. È stata cresciuta dalla mamma Francesca, lontana da quella vita. Lorenza è sempre stata resti alle telecamere, nonostante qualcuno abbia pure provato a intervistarla dopo l'arresto del boss. Aveva risposto non voglio saperne nulla, fate conto che non esisto. E anche al magistrato che l'aveva interrogata a seguito di una frase che lei stessa aveva scritto sui social, forse riferita al padre, non aveva dato conto. Si tratta del primo incontro, come si diceva tra i due, ma di questa ragazza, Matteo Messina Denaro, che teneva dei diari, aveva scritto, aveva parlato più volte anche in alcune intercettazioni. Matteo Messina Denaro stesso però questa figlia non l'ha mai di fatto riconosciuta. Il boss in alcune pagine del diario si chiedeva perché la figlia non volesse vederlo, in altre pagine ne parlava male. La giovane aveva riferita ai parenti dopo l'arresto e il clamore mediatico che non aveva nessuna intenzione di andare a colloquio con il padre in carcere. Ma una professoressa di Castelvetrano aveva raccontato nei mesi scorsi che la ragazza soffriva e diceva ha fatto stragi ma è pur sempre mio padre. Tante insomma se ne sono dette e scritte. Nelle lettere del diario il boss spiegava di non aver visto mai la figlia. Ora questo incontro al quale non si sa se ne seguiranno altri. La giovane con la mamma è cresciuta peraltro in un palazzo di proprietà del clan di Matteo Messina Denaro. Vivevano con la nonna paterna, poi la decisione di non avere più rapporti. Lorenza è l'unica figlia ufficiale del boss, anche se si è spesso parlato di un altro figlio maschio non riconosciuto.